Pochi istanti alla fine del match, 29 a 6 per la Lassi, siamo con Giulio Bisegni, rientrato dopo un lungo il fortuna, intanto come stai? Beh, la sensazione, il primo impatto sono state subito positive, devo ringraziare il nostro operatore atletico, lo staff mi è stato dietro, il primo impatto è stato subito un po' spiazzante, però bene, è andata bene, il fortuna non ho retto tutta la partita, logicamente non ce l'ho fatta, però 50 minuti sono bastati e andiamo a migliorare per la prossima, con le fiamme oro probabilmente. Una prestazione comunque importante dai 5 punti che volevate? Come no, come no, noi abbiamo fatto questa debacle con le fiamme oro, stavamo a 0 punti come loro, ci tenevamo, servivano assolutamente 5 punti, effettivamente è andata così, abbiamo dominato il match dall'inizio alla fine, bene, tanto di cappello per noi insomma. E ora sabato prossimo operazione aggancio? Sì, sabato prossimo dobbiamo per forza agganciare, siamo sempre passati, da che siamo saliti al trofeo eccellenza, ora le fiamme oro ci stanno sopra, a noi agganciarle ci metteremo l'anima per forza, dobbiamo raggiungerle ad ogni costo. Valerio Sasso, estremo della Lazio, 29 a 6, una prestazione che fa un po' il paio con quella che si viste sabato scorso per Mogliano, forse è stato differente. Sì, il risultato sicuramente è differente, per fortuna una vittoria dopo diverse sconfitte, abbiamo continuato ad esprimere il buon gioco con cui ci siamo iniziati finalmente poi contro Mogliano settimana scorsa e l'unica differenza è appunto il punteggio. Forse un po' di nervosismo nel finale, cosa è successo? Nel finale c'è stata una scazzottata tra un diverbio tra Duran, Gerber e un giocatore della Capitolina, purtroppo è partito il cartellino rosso, speriamo niente di che per Gerber. Forse una squalifica che potrebbe pesare però nell'economia della vostra formazione? Sicuramente sì, perché comunque Duran è rientrato dalla carrica in Sudafrica in ottima forma, ha fatto delle ottime prestazioni e ci ha sicuramente dato una mano a risollevarci, quindi probabilmente il futuro peserà un po' la sua mancanza. Cosa serve sabato prossimo per portare a casa 5 punti con le fiamme oro? Sicuramente voglia di vincere perché abbiamo perso due partite, una di Coppa e una di campionato contro i loro. Speriamo che stavolta la fortuna ci assista, oltre tutte le nostre capacità si facciano valere.